In attesa della ricostruzione della sede storica di Piazza Palazzo, la Biblioteca Provinciale Salvatore Tommasi, a oltre sei anni dal sisma, è ancora ospitata in un edificio del nucleo industriale di Bazzano. Un'ulteriore incognita è ora rappresentata dal piano di riordino delle province. La competenza relativa alla gestione delle biblioteche abruzzesi, infatti, dovrà passare alla regione, ma come più volte sottolineato dal vicepresidente della Giunta, Giovanni Lolli, sarà comunque necessario un intervento finanziario e una presa in carico da parte del Ministero dei Beni Culturali, perché la regione, alle prese con un bilancio da far quadrare con difficoltà, potrebbe non farcela da sola. Ad oggi la Biblioteca Tommasi riesce a coprire solo la normale amministrazione, senza alcuna possibilità dell'acquisto di nuovi libri. Un'anomalia in una città universitaria come l'Aquila, dove la biblioteca rappresenta un servizio indispensabile in primis per migliaia di studenti. Al nostro microfono la direttrice della Biblioteca Provinciale, Maria Concetta Ruffo. C'è ancora un po' di caos istituzionale. Sicuramente al momento la cultura e quindi anche la biblioteca è una funzione inessenziale per quella che è rimasta provincia, o meglio ente di area vasta. E quindi era stata buttata giù una proposta di legge regionale che ha visto noi direttori di biblioteche proprio parte attiva. Cosa prevedeva questa legge? Prevedeva un sistema bibliotecario abruzzese unico, quindi sicuramente la messa in rete di tanti servizi e di buone prassi e sicuramente penso che sia il futuro dell'Abruzzo. Però diciamo che a livello regionale ci sono degli step progressivi e dettati anche forse da limiti di risorse. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.